E' stata picchiata e poi costretta a subire un rapporto sessuale nel parcheggio di una discoteca. Alla fine però è stato arrestato, in manette un 24enne albanese residente nel Ravennate. Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe mal digerito il rifiuto di una ragazza in discoteca e per questo si sarebbe prodigato in palpeggiamenti, violenze e quando la vittima ha protestato lui l'avrebbe picchiata. I carabinieri del Nugla, radiomobile della compagnia di Ravenna, lo hanno arrestato con l'accusa di violenza sessuale avvenuta nella notte tra sabato e domenica nel parcheggio di locale del litorale Ravennate ai danni di una ragazza di 21 anni residente nel Riminese. Il tutto si è verificato intorno alle 3 di notte. Il giovane inizialmente ha fatto soltanto dell'avanza all'interno del locale ma poi i suoi tentativi di approccio si sono fatti più invasivi con baci e palpeggiamenti. Avvenuti quando il 24enne ha seguito la sua vittima nel parcheggio della discoteca. La ragazza a quel punto ha gridato per richiamare l'attenzione. Le sue urla hanno fatto arrivare la sicurezza del locale che ha interrotto l'approccio violento. Il ragazzo è stato consegnato ai carabinieri che sono arrivati subito dopo e lo hanno ammanettato.